Mi chiamo Luigi Maggi, arrivo dalla provincia di Pavia e sono qui per gioco. Per quale motivo? Perché amo comunicare con la musica e in tutti i modi. La mia professione è la comunicazione, quindi cosa dire? Enjoy music! La mia professione è la mia professione. 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 La mia professione è la mia professione.